Cosa sta facendo? Vorremmo solo dirle ciao. Ciao. George Pemberton. Serena Shaw. Dovremmo sposarci. Non pensavo di trovare te. Non pensavo di trovare qualcuno. È tutto tuo. Nostro. Tu che cosa pensi della nostra operazione? Avete impiegato nove mesi per fare un lavoro di sei. Hai trovato una moglie o una socia? Entrambe. Temo che le vostre azioni non siano più garanzie sufficienti. Perderemo ogni cosa, il nostro futuro. Abbiamo giurato di dirci sempre tutto. Non volevo spaventarti. Non sono quel genere di donna. Mi sembri molto cambiato. L'unico che è cambiato sei tu. Voglio pensare solo a noi due. Tu hai un figlio. Stai mentendo. Vorrei parlare con sua moglie. Ieri notte c'è stato un omicidio. Dovete andare il più lontano possibile da qui. Lui ti ha tradito, George. Tutto quello che hai fatto, lo hai fatto per noi. Non posso perderti.